Buonasera, bentornati con uno speciale focus dedicato all'economia. Parliamo spesso di crisi, vediamo queste luci spesso in fondo al tunnel che sembrano affievolirsi, invece ci sono ancora, la crisi continua a mordere, ci sono segnali contrastanti, le borse salgono, il giorno dopo le borse crollano e poi ci sono i dati sul PIL, il prodotto interno lordo che non rispetta le aspettative del governo, allora c'è Draghi che interviene, con quanti easing l'Europa, insomma ogni giorno è un disastro, è un disastro perché le aziende continuano a chiudere, i posti di lavoro nuovi non ci sono, perché come sapete la riforma del job act ha portato a una modifica parziale del mercato del lavoro, i contratti a tempo determinato diventano a tempo determinato, insomma in sostanza non è cambiato nulla. Allora ne parliamo oggi con un ospite particolare che si occupa di vendite, si occupa di marketing ed è un guru della comunicazione, ogni suo corso vede l'arrivo e la partecipazione di migliaia di persone, Frank Merenda. Buongiorno. Buonasera Merenda, grazie molte per essere con noi. Allora, il venditore vincente, questo è il titolo di un libro, un altro libro che ha avuto un successo straordinario, è Vendere fa schifo se non sai farlo, che è un titolo molto efficace. Allora, in un momento così difficile, lei dice in sostanza, adesso vediamo di capire qual è la sua strategia, la filosofia del suo gruppo, lei dice si riuscirà a vendere qualsiasi prodotto mantenendo gli stessi prezzi nonostante la crisi, che sembra qualcosa di, sembra quasi una chimera, ma lei ha dimostrato che lo si può fare. Allora, cominciamo proprio dal cardine di questa sua azione all'interno del business e del marketing. Sì, allora, di base non è proprio vero che qualunque cosa si possa vendere agli stessi prezzi, perché ci sono due aspetti che secondo me vanno considerati e a me piace essere estremamente concreto e molto realista con le persone, soprattutto con le persone che fanno imprese e che meritano il massimo del rispetto, come anch'io perché sono un imprenditore innanzitutto. Noi abbiamo due tipologie di problemi in Italia, abbastanza gravi. La prima, se volessimo ipersemplificare, sono tutti quei problemi che sono estremamente gravi, estremamente concreti, e con i quali però noi non abbiamo modo di intervenire, che sono la politica che funziona e non funziona. In Italia abbiamo una pressione fiscale che è esagerata, abbiamo una serie di problemi legati alla burocrazia per fare impresa, è veramente difficile tutti i giorni capire semplicemente cosa devi fare per non essere aggardito dal tassatore piuttosto che... C'altro dicono che stanno abbassando le tasse, qui siamo a 70%, 80%. Quindi c'è una parte dell'Italia che è pura fantascienza che sono queste cose, e io quindi capisco, condivido il fatto che bisogna arrabbiarsi, sia necessario arrabbiarsi, sia necessario fare qualcosa. Però il fare qualcosa da questo punto di vista è qualcosa nel medio-lungo periodo, cioè per chi ci crede, scegliendo la sua parte politica, si può andare a votare tendenzialmente, questo è quello che si può fare, ma non si può avere un'azione diretta su queste cose. E queste cose sono gravi, però io non mi posso focalizzare su queste cose perché tanto non posso farci niente. C'è un'altra parte invece, su quale l'imprenditore e il venditore in generale possono fare qualcosa, sono le azioni su quali io posso avere controllo, cioè è il marketing della mia azienda, quindi come la mia azienda si propone sul mercato, quali strumenti usa per proporsi, quali strumenti usa per differenziarsi e quali strumenti usa per vendere. Su queste cose io posso avere un margine di controllo, posso avere un enorme margine di manovra. E quindi sono queste le cose sulle quali noi vogliamo concentrarci. Io non ho nessun approccio estremamente concreto, non ho nessun approccio motivazionale, va tutto bene, ci sarà la ripresa, vi darò un milione di posti, è assolutamente lontano da questo tipo di approccio. Però dico che, oggettivamente, se non vogliamo essere solo completamente disfattisti, dopo aver detto che è tutto vero che in Italia è estremamente duro fare determinate cose perché le condizioni di base non sono semplici, è anche vero che queste condizioni ci sono per tutti, quindi ci sono per me e ci sono anche per i miei concorrenti. Io quindi la differenza la posso fare se a parità di condizioni di base sono più bravo degli altri a fare marketing e a vendere. Senta, ecco, lei dice step by step, no? La vendita step by step, imparare questo mestiere così, un passo dopo l'altro. È nato a Sassuolo, suo padre si occupava di ceramiche, però ha svolto la gran parte della sua attività in Veneto. Come mai? È un mercato che da questo punto di vista ha bisogno di consulenti, ha bisogno di imparare a vendere. Che tipo di mercato è quello dei Veneti? Io sono nato professionalmente in Veneto, nel senso che dopo aver svolto la mia primissima attività di venditore, in Emilia Romagna io ho cominciato, la primissima attività era come agente immobiliare a Castelfranco Emilia. E poi quando ho continuato a fare il venditore, a spostarmi, poi cominciare anche a fare il consulente quando ero più ragazzo, e ho cominciato a farlo in Veneto. Penso, all'epoca non lo sapevo, però penso semplicemente perché i Veneti lavoravano più degli altri semplicemente, quindi c'era molto bisogno. E quindi io sono cresciuto, ma nemmeno nel Veneto venese, cioè proprio nell'entroterra, cioè Tienes, Chio, Lonnigo. Nel cuore del nord Veneto. Sì, sì, assolutamente. Questo è stato importante perché mi ha permesso per tanti anni poi di conoscere anche la realtà, il tessuto economico, quello vero, quello della provincia, quello interno. E in Veneto esiste questo enorme potenziale, nel senso che altrove, per esempio, io ho degli altri problemi, cioè devo motivare la gente la mattina ad andare a lavorare. Non faccio questo, lo uso come scherzo, nel senso che altri usano tutta quella parte di problematiche dell'Italia per un po' appoggiarsi, sedersi, giustificarsi. Mentre il Veneto magari bestemmia un po', però poi si alza la mattina e va a lavorare. Quindi questo è il grande valore del tessuto culturale del Veneto, vero e proprio. Da lì in avanti, se volessimo andare a individuare quello che si può fare eventualmente in Veneto, è la scollatura, che è normale che sia così, perché il Veneto nasce, come l'Emilia dove io sono nato, da una cultura tendenzialmente contadina. Poi abbiamo cominciato a tirare sui capannoni, ma chi tirava sui capannoni non erano i laureati ad Oxford, erano i contadini che tiravano sui capannoni. E quindi ad oggi ci troviamo in una situazione di mercato dove non siamo più negli anni 70, negli anni 80, quindi al di là dei problemi di cui abbiamo parlato prima c'è anche un problema congiunturale. Cioè noi come italiani nel nord-est, come emiliani, siamo molto bravi, siamo sempre stati il numero uno nel mondo con le mani tendenzialmente a fare qualunque cosa. Diciamo che nel corso dei decenni, io raccontavo prima, racconto sempre questa cosa, mio babbo quando ero piccolo mi raccontava, io sono nato a Sassuolo, dove abbiamo inventato noi le mattonelle, le piastrelle che sono per terra nel mondo, fino a qualche anno fa, erano tutte fatte in 10 km quadrati dove sono nato io. Le faceva il mio babbo più tanti altri coraggiosi che arrivavano a tutta Italia, anche emigrando per venire a creare questo miracolo economico. Mi ricordo che noi nel triangolo Sassuolo-Fiorano-Maranello fatturavamo più della Baviera, più della Baviera, quindi tutti eschi, bravi, intanto noi fatturavamo di più in 10 km quadrati. Però ci ho detto senza fare troppo campanellismo. Io mi ricordo che noi vendevamo, abbiamo inventato le mattonelle, quindi per tanti anni abbiamo avuto un vantaggio competitivo, semplicemente perché nel resto del mondo non le sapevano fare, non avevano gli altiforni, non sapevano semplicemente come produrle. È chiaro che nel corso dei decenni, poi a forza di svendere e vendere i macchinari usati, prima in Brasile, poi ai cinesi, poi agli spagnoli, mano a mano questa gente impara. Quindi quando ero piccolo la differenza tra una mattonella nostra e una mattonella straniera era evidente, la nostra era arte e il resto era schifezza da mettere in terra, non te lo saresti mai messo. Oggi il mio babbo che fa quel lavoro ti sa dire la differenza. Io, se devo guardare la mattonella, per me che sono ignorante è quasi uguale. E quindi nel momento in cui, essendo io ignorante, una cosa mi costa 10 volte meno, magari penso anche che abbiamo questo tipo di problema. e quindi dobbiamo lavorare molto nel tornare a differenziarci dal punto di vista del marketing e comunicare quelle differenze sostanziali che ancora oggi ci sono, ma un occhio superficiale magari non si vedono. Il marketing e la benità fatta in maniera corretta è quello strumento che ti permette di far passare in realtà la grande differenza delle cose che noi creiamo in Veneto, creiamo comunque in generale in Italia, con una manualità che ancora nel resto del mondo non esiste. Però se ci sediamo troppo su quello, rischiamo che con il passare del tempo, al di là della crisi, l'Italia, in generale, il mondo ci arriva ad osso perché è normale che sia così. Allora, crollo dei consumi, poi negozi che chiudono, insomma ogni giorno c'è un campionario di aziende che tirano giù la Claire, come si dice in Navardia, come lei sa. Ma ecco, anche nel suo blog, lei spesso parla della rassegnazione del venditore, anzi addirittura di un senso di colpa, e fa l'esempio di un agente immobiliare che dice ma io so che in un anno riesco, magari a fine anno, a fatturare quella cifra e a quella cifra mi devo ricondurre, quasi che superandola il venditore, l'immobiliarista si senta in qualche modo appunto in colpa. Ma oggi con un mercato così difficile, con una concorrenza sleale enorme, come sanno tanti commercianti, che consiglio darebbe comunque a un venditore magari così un po' rassegnato per rilanciare la sua attività, per non perdersi d'animo, qui siamo nella terra dei suicidi, qui abbiamo i samurai del nord-est, 300 persone che negli ultimi due anni si sono tolte la vita disperate perché o hanno perso il lavoro o perché non riescono più a fare gli affari. Allora, è una questione molto delicata, quindi qualunque risposta sarebbe ingenerosa nei confronti di una realtà che è estremamente complessa. Diciamo che se volessimo banalizzare, pur non rendendo giustizia al problema nel suo complesso, però possiamo dire questa cosa, chiunque abbia un'impresa in Italia, tendenzialmente noi come siamo la provincia italiana, quindi senza fare le americanate, le cose particolari, l'imprenditoria del tessuto vero italiano è fatta tutta da PMI, ma in particolare nemmeno PMI, proprio dalle micro imprese, cioè il 95% delle imprese in Italia sono sotto le 5 persone, cioè siamo io, mia moglie, mio cognato che fa la logistica, cioè siamo nati così a noi fare imprese. Poi ci sono le partite IVA, no? Le varie partite IVA. In generale, quindi, qual è il problema che noi abbiamo sviluppato nel corso del tempo? Che tutte le aziende italiane non nascono realmente da un imprenditore, quindi da un'idea imprenditoriale, quindi non nascono con il marketing in testa, nascono come spin-off, uso questo termine che significa semplicemente, e lo spiego, che io imparo a bottega da qualcuno e poi non voglio stare sotto paron, perché ho la mia voglia di indipendenza, perché l'italiano è così, e quindi decido che non volendo stare sotto paron di qualcuno, creo la mia azienda. Però la mia azienda tendenzialmente in Italia nasce come clone dell'azienda dove ho imparato a lavorare, con la politica nel medio periodo che è faccio quello che faceva il mio capo prima, pagami un pochino meno. Solo che finché eravamo negli anni 70 e quindi c'ero io e uno che mi aveva clonato, due ce n'era ancora per tutti. Quando tutta l'Italia comincia a essere tappezzata di aziende clone che fanno quello che facevano prima, pagami un pochino di meno, e nessuno in realtà ha delle competenze vere da marketer, perché l'italiano nasce come approccio imprenditoriale tutto orientato al prodotto, a sapere fare le cose. Questa cosa è un problema perché poi il prodotto bisogna venderlo, quindi il prodotto è la cosa più nobile per l'amore del cielo, che noi siamo famosi nel mondo per il made in Italy il prodotto, però il made in Italy in realtà, se vado a vedere che cosa si vende veramente nel mondo, è anche fatto da quelle aziende che sono più forti in assoluto nel marketing. Prendo il caso di Ferrero per esempio, un genio imprenditoriale in termini di prodotto che è qualcosa di clamoroso, cioè lui aveva proprio la visione straordinaria, cioè lui diceva tutti fanno la cioccolata solida e io la faccio liquida. Quello è marketing però, però al di là di quello poi è come lo ha venduto nel mondo, non è solo il prodotto che è così buono che si vende da solo, come noi siamo abituati a pensare, è così buono che si dovrebbe vendere da solo, ma non si vende da solo, e quindi è anche necessario sapere venderlo. Nel momento in cui le nostre aziende sono solo progettate su, intanto se il prodotto è buono la gente lo proverà e poi si spargerà la voce e io diventerò ricco, non funziona, quindi non voglio offendere nessuno, però nel medio periodo che cosa succede? Succede che finché le cose vanno bene, la tua azienda magari si sostiene perché i tuoi clienti vanno bene, crescono o è chiaro che se vendi al privato e quindi il privato è in una condizione che avevamo pre-2008, nel quale c'era accesso al credito, fidi, prestiti, credito al consumo, tutti compravano tutto a rate, fin domestic, le carte revolving, è chiaro che tutti possono stare sul mercato perché le persone in maniera falsa possono avere, comprano tutto a buffi, si dice in gergo non tecnico, ma colloquiale, e quindi è più semplice. Nel momento in cui il mercato giustamente davvero ti si restringe, tu hai bisogno di avere più canali e più capacità per vendere quello che stai facendo. La maggior parte dell'azienda ha questo problema, cioè è quello che noi, oh scusate, è quello che noi chiamiamo il problema del trampolino. Il trampolino perché? Perché l'azienda è formata come se fosse un trampolino, un trampolino come quello proprio per lanciarsi in acqua, in piscina, cioè pensiamo al fatturato come la piattaforma e l'asta che regge l'azienda in realtà è la base del trampolino, quindi è proprio questa forma. In che senso? Adesso qui c'è il fatturato e la base è un modo nel quale l'azienda si propone sul mercato. Tutte le aziende in Italia sono fatte a trampolino, che è una cosa estremamente rischiosa e mi spiego in termini più semplici che posso. Alcune aziende, non è il settore diverso, tutte sono fatte così, alcune aziende si basano per stare sul mercato, per esempio sulla vendita diretta, detto nel modo più semplice possibile, mandano in giro i rappresentanti con la valigetta. Porta a porta. Porta a porta. Il buon vecchio, la gente di commercio è il rappresentante e c'è solo quello. Altre aziende si basano invece sul fatto, la microimpresa su strada, si basa sul fatto che io sto sulla strada, ho il negozio, ho il ristorante e apro la clera, come dicevamo prima, tutti i giorni e se non entra la gente mi metto lì e fumo. Finché va tutto bene, bene, ma quando va male non è una grande strategia per stare sul mercato, altre aziende si basano sul fatto che hanno il centralino, il call center, fanno telefonate a freddo su liste, in Italia non siamo bravissimi a fare queste cose, finché le cose vanno bene, fissi appuntamenti e vendi, però basare tutta la tua attività su un unico strumento di acquisizione clienti, che è diverso a seconda del tipo di business che tu fai, ma il principio è lo stesso, è molto debole, perché appena quell'attività per mille motivi ti si stringe un po', ti si gira contro, non hai altri modi per far entrare clienti nella tua azienda, in quel momento la gente va in crisi e dice ok c'è la crisi, che è vera perché abbiamo il crollo dei consumi, una contrazione, ma è anche vero che tu non sai stare sul mercato perché hai appoggiato tutta la tua attività in maniera insicura su un unico pilastro, è come dire che in Italia le aziende vanno in macchina senza l'assicurazione, va bene finché non fai un incidente, quando hai fatto l'incidente, dopo la vita ti chiede il conto, quindi poi purtroppo c'è della gente che ha basato su quel singolo pilastro del trampolino tutta la propria vita, quindi vede crollare, non capisce cosa gli sta succedendo, vede crollare tutta l'azienda, famiglia, debiti e quant'altro, quindi ovviamente si abbatte e dice c'è la crisi, va tutto malamente, quindi magari ricorre anche a strumenti estremi, che è una cosa terribile dal punto di vista umano, ma se dovessimo togliere la comprensione dal punto di vista umano e analizzarla in maniera brutta, fredda, dovremmo dire che purtroppo c'è un'imperizia nel costruire i puntelli che tengono in piedi l'azienda e che portano clienti, abbiamo strategie troppo, ne abbiamo troppo poche e troppo strette, quindi ovviamente se ne hai solo una e quella per mille motivi non funziona più, senza parlare della crisi, io penso a un'azienda che si basa sui venditori, tutti i giorni cosa succede? Che le altre aziende ti fanno concorrenza, non solo sul mercato, ti portano via un direttore vendita, il direttore vendita si porta via metà dei tuoi venditori e tu si frega, ti va via il 20, il 30, il 40% del fatturato, è tanta roba, le banche lunedì ti chiamano, tu non sai come fare, è normale scorarsi, quindi la reazione è, io non faccio il motivatore, quindi dico, posto che c'è una situazione di crisi reale, dovremmo cominciare a ragionare, mentre continuiamo a essere focalizzati sul prodotto di altissima qualità italiana, dovremmo anche cominciare a pensare che imparare a fare marketing, quindi puntellare la propria azienda, dare più livelli di sicurezza, più livelli di assicurazione, è la strada per il futuro, perché ti succede qualcosa ai due, tre, quattro livelli di sicurezza che continuano a portare dentro il fatturato, continuano a portare dentro i clienti, noi non siamo abituati, facciamo business come abbiamo imparato dal signore che ci ha insegnato che aveva aperto il campanone negli anni 70, per lui andava bene, oggi magari non è sufficiente. Quindi rinnovamento, cambiamenti necessari, indispensabili, poi parleremo anche delle nuove tecnologie che hanno cambiato tutto il mercato del lavoro e il business. Allora, qualche giorno fa a Padova, 650 partecipanti a uno dei suoi corsi, all'Hotel Sheraton, qualche giorno prima a Milano, 850, insomma migliaia di persone, con dei corsi che peraltro non sono gratuiti, ecco, specifichiamolo, quindi è gente che viene e che paga per imparare che cosa in particolare e chi sono gli uomini e le donne che vengono a sentirla. Lei è veramente un guru ormai perché come succede in altri paesi, forse che erano partiti qualche anno prima di noi, sono catalizzatori dell'attenzione e soprattutto riescono a ispirare la fiducia nelle persone con cui vengono in contatto. Come fa così ad attrarre tanta gente? Perché la gente viene a sentire? Allora, io penso che derivi dal fatto che lo è nessuno, non sono un guru in realtà, quindi io sono semplicemente un piccolo imprenditore, quindi un imprenditore o un po' di aziende in settori diversi. Imprenditore seriale, no? Sì, tipo killer seriale, però no, nel senso... Rende l'idea, insomma, della versatilità. Io semplicemente applico tutto ciò che poi cerco anche di insegnare alle persone all'interno delle mie aziende, in quelle dei miei soci, in quelle dei miei studenti storici e quindi cerco di riportare poi nel tessuto alle persone non teorie studiate sui libri, all'università o quant'altro, ma ciò che noi facciamo tutti i giorni oggi nella durezza del mercato attuale e cercare di trasferirla, ovviamente, alle persone che vogliono imparare. Ci sono alcuni problemi da superare, nel senso che la maggior parte delle persone, essendo prodotto-centriche, quindi essendo focalizzate sul proprio prodotto, in Italia in particolare abbiamo il problema che io devo continuamente spiegare alle persone che il tuo settore non è differente, che in realtà, certo, il tuo prodotto è diverso, ma fare marketing, in realtà, e vendere, con le sue peculiarità, ci sono molte più similitudini tra uno che ha una macelleria, in realtà, e vendere centrali nucleari, che differenze. Poi è chiaro che il prodotto è così diverso e il ciclo di vendita è così diverso che apparentemente sono due cose inconciliabili, ma in realtà ci sono delle azioni da fare che tendenzialmente sono standard e poi vanno adattate, che devono essere fatte costantemente per poter vendere i nostri prodotti. e quindi io cerco di dimostrarlo portando tutti gli esempi possibili, concreti, dalle mie aziende, che sono tutte in settori diversi, completamente scorrelati, a tutte le aziende delle decine, centinaia di miei studenti che nel corso degli anni stanno ottenendo il successo grazie alle stesse cose. Ovviamente sono bravi loro, sono loro che poi adattano nello specifico le cose a ciò che devono fare, però i principi che noi tutti usiamo sono sempre quelli sui quali si basa il costruire un flusso di clienti costante in entrata. E le persone che mi seguono, quindi sono persone simili a me da un certo punto di vista, nel senso che chi è interessato a formarsi in Italia, più che il venditore inteso come il rappresentante, l'agente di commercio, io quando ho cominciato sono stato per tanti anni il rappresentante, l'agente di commercio, ma l'agente di commercio in Italia tendenzialmente non è interessato a formarsi alla vendita, per quanto sembri strano. Io ho uno dei miei corsi che si rifà prettamente alla vendita, che si chiama Venditore Vincente, in realtà non ha come clienti, io ho scoperto studiando nel corso degli anni che non ho come clienti venditori, nel senso che la maggior parte dei miei studenti sono tutti piccoli imprenditori, perché? Perché chi ha comprato formazione in generale nel corso degli anni, da quando esiste la formazione, da vent'anni a questa parte, sono sempre stati gli imprenditori, hanno comprato loro formazione per le loro reti vendita, quindi i venditori in Italia non sono automotivati a crescere, perché? Perché i venditori tendenzialmente in Italia non è un mestiere percepito nobile come percepito in altri paesi di cultura anglosassone, per esempio negli Stati Uniti, in Inghilterra, se tu sei un venditore, in particolare un venditore di punta, sei uno che fa un sacco di soldi, ha un ruolo molto prestigioso anche nella società e chi arriva a gestire, per esempio, grandi aziende tendenzialmente viene dalla vendita, da noi in Italia invece viene dall'università, viene dal reparto tecnico, magari viene dall'amministrazione, noi abbiamo i manager, abbiamo quella gente lì, e quindi è diverso, è un problema, invece altrove il venditore è un ruolo figo, mi si passi il termine, da noi in Italia invece è come ero io quando sono, io ho cominciato a farlo appena finito la scuola, a 19 anni, sei lo scappato di casa con un po' di parlantina, la faccia un po', c'è un po' la faccia tosta e quindi vai a fare il venditore, e quindi questo tipo di persone ancora oggi non pensa che si possa imparare, ok? Pensa solo che venditori si nasce, che non è vero, certamente se sei timido e non parli è molto difficile tirare fuori da te un venditore d'assalto. Ecco, però mi ha stupito, mi ha colpito una delle cose che lei dice nel suo blog, cioè non basta la parlantina, no? C'è questo vecchio cliché che uno è bravo, è un po' furbo, così un po' spregiudicato e basta quello, no? non è che basti quello ormai. No, tra l'altro, oggi secondo me siamo in un momento storico, fondamentale per inserirsi nella vendita e imparare a vendere, perché una volta era veramente così, cioè il venditore agli inizi chi era? Era l'imprenditore che tirava sul suo ufficietto, sul suo capannoncino e andava a vendersi, era il primo venditore di se stesso, ok? Poi nel tempo, negli anni 70 sono arrivati i primi rappresentanti e quant'altro, però era gente che oggettivamente invece che rifugiarsi nel lavoro sicuro, nello stipendio statale o in tutte queste cose, decideva in maniera spregiudicata di andare a fare, a cercare fortuna con la valigetta in mano e quindi dovevi avere oggettivamente un po' la faccia come il, come si può dire, la faccia torta, certo. E oggi invece le cose sono cambiate, nel senso che tutte le statistiche moderne dimostrano che più di due terzi del processo di vendita, quindi processo di acquisto da parte delle persone viene svolto prima ancora di incontrare il venditore, quindi la fase di colluttazione, cioè il, quando ci incontriamo e facciamo quella che si chiama trattativa, una volta era tutto, oggi invece è diventata una parte di rifinitura di un processo di conoscenza che gli acquirenti e l'azienda hanno fatto o dovrebbero fare prima. Questa cosa, questi due terzi che le persone fanno prima, quindi di ricerca anche online, di informazioni che una volta non si poteva fare, semplicemente si chiama marketing, quindi io oggi anche come venditore è molto più importante che io conosca quegli strumenti che mi permettano di entrare in comunicazione con i clienti, differenziarmi, mandare il mio messaggio differenziante prima ancora di entrare in contatto, quindi anche se oggi sono più timido posso comunque essere un grande venditore se per esempio imparo a scrivere per vendere, non sono spregiudicato, non sono bello aggressivo come venditore, ma non è necessario perché in realtà le persone non è che comprano solo, soprattutto oggi non è che comprano sull'onda dell'entusiasmo perché tu sei un incantatore di serpenti, al contrario, il grosso del processo di acquisto viene svolto prima ancora di incontrarmi. Il copywriting è fondamentale, no? Il copywriting è una disciplina che stiamo insegnando noi in Italia perché nessuno ha mai insegnato mentre negli Stati Uniti è la base del commercio da sempre. Nel Far West ci sono le prime tracce storiche di copywriting, quindi dello scrivere per vendere di marketing a risposta diretta si chiama fine del 1800 dove la gente attraverso con le diligenze portavano le lettere di vendita vuoi comprare il mio merluzzo sotto sale e tu compilavi il bonus perché leggevi l'offerta glielo ridavi e lui tornava la settimana dopo con i secchi con il merluzzo sotto sale e quello a noi non è mai arrivata noi ancora negli anni 60 avevamo carosello quindi cioè siamo un pochino indietro nel processo di mari noi siamo molto sul prodotto ancora e poco orientati a costruire una relazione col cliente duratura e costruire un marketing che comunichi a un target specifico senta merenda è tutto molto interessante davvero ovviamente a parte la tecnica poi ci vuole sempre come si dice in gergo l'olio di gomito cioè bisogna lavorare insomma bisogna mettercela tutta e mi viene in mente così perché conosco piuttosto bene il settore la vendita degli spazi pubblicitari in televisione non basta più telefonare e dire pronto vuole fare uno spot con Rete Veneta ah non lo vuole fare grazie buongiorno noi non abbiamo venditori così per fortuna ma in altre in altre realtà c'è questo atteggiamento dice sì se arrivano le cose cioè invece cavoli bisogna andare proprio stare sul pezzo ecco e quando lei dice noi abbiamo un obiettivo dobbiamo vendere noi ci sono esempi a volte un po' così retorici non so del venditore di aspirapolveri che ne vende 1144 rispetto a quelli che ne vengono 4 in un mese ci si chiede come fa come si fa come dire a a convincere un acquirente cioè un cliente qualcuno non solo nel campo come lei diceva del commercio questo vale per il commercialista piuttosto che per l'avvocato per l'imprenditore cioè come si fa poi a essere persuasivi a ottenere quello che quello che è l'obiettivo che ci si propone di raggiungere beh noi oggi abbiamo questo grande non problema questa situazione che è cambiata nel senso che quando io ho cominciato a fare il venditore quindi proprio la gente di commercio il venditore era uno strumento di informazione per i clienti cioè le persone compravano perché il venditore le formava parlo della parte nobile poi ci sono anche i venditori disonesti chiaramente che hanno troffato le persone in mille modi però sono ovviamente quella piccola parte che poi fa sempre parlare di sé ma in realtà il venditore è l'ossatura che ha portato avanti l'Italia cioè non ci fossero stati la gente con la valigetta l'Italia non si faceva cioè questa è la realtà quindi eroi piccol imprenditore e il venditore con la valigetta che andava anche all'estero parlando un tedesco sbuzzicato un mezzo francese cioè abbiamo conquistato il mondo così cioè semplicemente andando a lavorare ci ho detto quando io ho cominciato e vado per i 40 quindi non è che sono però mi ricordo era più semplice perché perché io giravo per le aziende e nelle aziende c'era un cartello quando tu arrivavi dove ancora ci davano del lei e c'era scritto i signori rappresentanti si ricevono il mercoledì dalle 9 alle 11.30 e quindi io non avevo c'era un orario c'era un orario io non avevo bisogno di avere una tecnologia particolare per farmi ricevere perché io sapevo che mi bastava andare a lavorare mi sarei messo a sedere nella sala di aspetto e quel giorno quell'azienda mi avrebbe ricevuto io avrei fatto la mia presentazione poi avrebbero comprato meno però intanto io sarei stato ricevuto e gli imprenditori lo facevano perché ricevere i rappresentanti per loro era l'internet moderno cioè era ricevere le informazioni da quello che succedeva nel mercato quindi il venditore era Google in realtà del mondo antico mondo antico per modo di dire oggi queste sale sono sparite nelle aziende non ci sono ci sono le segretarie che fanno filtro cioè non ti permettono più di parlare al decisore e quindi perché? perché gli imprenditori o in generale i clienti anche chi vende al privato la stessa cosa oggi trova le informazioni che gli servono altrove tendenzialmente accende un telefonino uno smartphone e su Google su internet riceve tutte le informazioni che gli servono proviamo a pensare una volta parliamo di piccolissime micro imprenditoria una volta io andavo in un posto dovevo scegliere un ristorante come facevo? solo attraverso un po' il passaparola se no mi fermavo andavo in centro perché nella piazza ci sono i ristoranti migliori andavo così guardavo dove era il campanile del paese andavo lì perché l'intorno sicuramente c'era il ristorante dovrebbero fatto il bollito buono oppure avrebbero fatto i tortellini a casa mia e oggi c'è TripAdvisor quindi mi collego e internet mi dà quelle informazioni e quindi non è tanto un problema come era una volta di avere la faccia tosta di spingere di persuadere perché in realtà la gente oggi il cliente è estremamente più formato e quindi il mio compito è trovarmi e quindi imparare a fare marketing essere laddove con le mie informazioni laddove le persone cercano quelle informazioni si fa online oggi perché è molto importante ma si continua a fare anche offline gli strumenti offline sono di straordinaria importanza se uno li sa utilizzare in primis la televisione ancora la radio ancora i giornali però è chiaro che devono essere usati in maniera diversa da come venivano usati una volta perché perché una volta qualunque pubblicità anche stupida passava semplicemente perché eri l'unico magari ad arrivare in televisione quindi poter battere con il tuo messaggio pubblicitario anche sbagliato però semplicemente sentire il tuo nome serviva perché eri l'unico a farlo oggi nel momento in cui quando noi eravamo ragazzi cosa succedeva tu la pubblicità quando è che la vedevi o la subivi da un certo punto di vista a mezzogiorno quando tornavi a casa dal lavoro accendevi per il telegiornale un po' la sera in prima o seconda serata o se aprivi il giornale quindi erano pochi gli spazi in realtà nel quale tu eri sottoposto alla pubblicità noi oggi tutti i giorni siamo connessi con il telefono come accendi il telefonino ti arrivano comunicazioni da tutte le parti la pubblicità non fatta bene non è più un grande strumento quindi serve sapere quello che si sta facendo in tutti gli strumenti quindi la televisione è un strumento potentissimo per promuovere la propria azienda sapendo quello che si sta facendo essendo un esperto di marketing e affidandosi a televisioni reti consulenti che sanno quello che si sta facendo così come tutti gli strumenti sono importanti l'online non è da sottovalutare perché ovviamente la gente forzatamente è online semplicemente per parlare con gli amici oggi accendi lo smartphone vai su facebook e cominciano ad arrivarti le pubblicità di tutti perché compagano gli annunci quindi dobbiamo confrontarci con questa nuova realtà ed è molto meno faccia tosta molto di più strategia di marketing per conquistare farsi conoscere dal cliente nel medio e lungo periodo e poi rispettare la parola data è una cosa molto importante che in Italia sottovalutiamo come strumento di marketing e se posso spendo una piccola parola certo noi siamo purtroppo abituati con troppe aziende che sono il clone del clone del clone a fare che cosa quello che dicevo prima cioè faccio quello che fa il mio capo pagami un pochino di meno questa è la prima parte ma c'è una seconda parte che prima non avevo detto è faccio quello che fa il mio capo pagami di meno e in più ti faccio quindi siamo abituati ad avere aziende molto piccole abituate ad estendere la gamma dei prodotti la linea dei prodotti in maniera insensata perché è con la falsa ideologia che più cose faccio più possibilità ho di vendere in realtà non è così in realtà sarebbe il contrario perché gli specialisti sono le persone alle quali le persone si rivolgono più volentieri e che possono chiedere prezzi più alti basta pensare per fare un piccolo parallelismo se io vado a un medico vado dal medico e mi dice che ho una malattia che magari mi fa anche preoccupare e mi dà la cura io vado a casa però mi sono preoccupato ci penso un attimo e magari la prima cosa che faccio aspetta chiedo il consulto di uno specialista quando vado dallo specialista tendenzialmente lui mi dà la soluzione e io mentre torno non torno a casa mentre torno a casa mi fermo in farmacia prendo le medicine che lui mi ha dato perché è un'autorità il medico di base magari era anche più preparato ma io non lo posso sapere era gratuito lo specialista mi ha chiesto un botto per farmi la visita io lo pago e lo pago molto di più perché lui è percepito come specialista noi siamo abituati a fare il contrario cioè a pensare che se faccio tutto per tutti accontenterò più clienti è uno dei motivi di fallimento delle aziende fare troppa roba con un'azienda troppo piccola non riesce a fare marketing e questa è una cosa grave anche dal punto di vista pratico perché? perché noi siamo abituati dopo ad andare in carenza di ossigeno cioè di fatturato e quindi intanto prendi gli ordini abbiamo questi ordini che arrivano dal retro delle aziende intanto prendi l'ordine poi vediamo solo che il problema è che se tu prendi l'ordine poi vediamo in Italia io come tutti noi io ho grandissimi problemi qualunque fornitore ti fa veramente venire male al cuore perché ti ritarda le consegne perché? perché ovviamente ha preso l'ordine ma non viene quella settimana li viene dopo due settimane e tu rimani con la casa aperta con il bagno con un buco l'elettricista che non viene nelle aziende devo montare un software quello non viene però mi blocca l'amministrazione mi causano tanti problemi e quindi è molto difficile creare anche buone PR perché poi le persone se tu ragioni solo intanto vendigli e quindi non rispetti mai la parola data non la rispetti non perché sei cattivo ma perché te hai bisogno di ossigeno lunedì ti chiama la banca quindi intanto prendiamo questi ordini poi vediamo come fare lo fai anche in buona fede per l'amore del cielo solo che causi dei problemi le persone quindi dopo non si spendono per te qui in Italia noi è una cosa che sto insegnando io per esempio raccogliere le testimonianze dei clienti usarle come strumenti di marketing chiedere le referenze ai clienti in Italia si fa più fatica e quindi riescono a farlo molto bene i miei studenti perché si focalizzano molto ma l'imprenditore medio all'inizio fa molta fatica perché perché nessuno si spende per te se tu non rispetti la parola data perché perché mi fai fare brutta figura quindi farmi fare bella figura rispettare la parola data avere un'azienda che si focalizza fa veramente bene quella cosa lì e la fa davvero quando ti dice che la fa te la porta al giorno che dice che te la porta con la qualità che dice che è promessa all'interno della comunicazione e se non è così ti ridai i soldi te la rifà o metti a posto senza fiatare quelle sarebbero le prime grandi strategie di marketing che sono per esempio mi viene in mente un sito questi siti adesso di compravendite ma anche di affitti di appartamenti dove le referenze sono fondamentali tu affitti un appartamento se poi hai sette persone che dicono ah sono stato benissimo in quell'appartamento in quell'albergo vuol dire è un grande aiuto senta mi è piaciuto molto nel blog il riferimento alla morte di un commesso viaggiatore che lei dice ma il titolo è Death of a Sailman che vuol dire morte di un venditore e c'è questa diciamo non 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 quello orgoglio di cui lei parlava anche di chi vende le noccioline negli stadi americani e si sente orgoglioso di vendere gelati e noccioline ma c'è quasi così si schernisce un po' perché vendere in fondo non so appare come qualcosa di poco nobile no? sì c'è ancora questa sì questo ci fa riflettere sul fatto che quando il film è stato tradotto quindi per far capire quanto siamo indietro rispetto al mondo noi non avevamo le parole cioè il nostro concetto di venditore o addirittura rappresentante o agente di commercio è uscito decenni dopo quindi noi negli anni 60 hanno tradotto il film e hanno tradotto venditore con commesso viaggiatore per far capire agli italiani di cosa si parlava perché noi avevamo le botteghe in una bottega c'è il commesso per gli italiani era strano che ci fosse uno che uscisse dalla bottega per andare a vendere perché la gente ha bisogno e viene lei perché bisogna andare a rompere le scatole a casa delle persone è significativo questo è significativo noi avevamo le parole per dire venditore non c'era la parola per noi è una cosa negli anni 70 che comincia non è nemmeno venditore gli abbiamo dato altri nomi cioè quasi ci vergognavamo rappresentante il commerciale ma il commerciale non è un mestiere è il settore commerciale non è il ruolo della persona si chiama venditore all'estero si chiama salesman non c'ha il nome poi in Italia siamo peggio perché noi usiamo parole strane inglesi per chiamare delle cose che non hanno senso perché all'estero lo chiamano venditore noi in Italia lo chiamiamo business account manager customer venditore si chiama venditore noi siamo strani da questo punto di vista per il motivo che dicevamo prima nel senso che in Italia noi siamo molto abituati con una retorica legata al fatto di vai a scuola prendi buoni voti poi magari vai all'università e trovati il posto fisso il posto sicuro quindi il mestiere del venditore per noi in Italia non è stata non è come all'estero il primo trampolino per chi vuole spaccare fare impresa e non vuole andare a fare l'impiegato è il mestiere di ripiego se tu non sei laureato e non hai trovato un posto di prestigio in banca e quant'altro il problema è che poi magari il venditore bravo guadagna 20 volte quello che guadagna un direttore di banca però questa cosa da noi non è passata proprio perché da noi c'è il concetto vai a scuola prendi buoni voti trovati un lavoro sicuro poi quando si è scoperto che questa strategia l'hanno fatta tutti quindi i laureati si trovano di qualunque materia di qualunque sciocchezza sotto un sasso non servono a niente perché non sanno fare niente servirebbe della gente che va a lavorare e vada a vendere sappia fare marketing oggi le cose piano piano cominciano a cambiare Senta, meritocrazia perché prendiamo facciamo l'esempio di un ragazzo che viene da lei a un soccorso si innamora di questo mestiere dignitosissimo e decide di buttarsi a capofitto negli affari in un settore o in un altro vende tantissimo questo merito gli viene riconosciuto in Italia cioè mentre negli Stati Uniti sappiamo che chi ottiene i risultati viene portato in palmo di mani qui nelle aziende piccole le medie e grandi chi lavora e ottiene risultati ha degli stipendi più alti fa carriera che cosa succede ci sono le clientele ci sono i raccomandati come funziona l'Italia secondo lei Allora l'Italia è sempre un mondo un po' a sé ovviamente non c'è bisogno che lo ripetiamo noi oggi però in generale possiamo dire una cosa il venditore se parliamo solo di venditore inteso come agente di commercio di base è un mestiere assolutamente meritocratico perché perché ha provvigioni in alcuni casi in alcuni casi no c'è lo stipendio fisso però diciamo l'agente di commercio quello vero che sta a provvigioni in realtà è un piccolo imprenditore nel senso tu sei una piccola SRL unipersonale nel senso sei l'imprenditore di te stesso indipendente quindi non è che ti possono in qualche modo tarpare le ali guadagni tra virgolette per quanto vali vali non a livello personale per l'amore del cielo vali in termini di abilità commerciali cioè per quanto produci tanto guadagni come l'imprenditore l'imprenditore guadagna per quanto vale la sua impresa quindi per quanto è in grado di stare sul mercato e quindi di base sarebbe meritocratico poi ovviamente in Italia siamo un popolo strano nel senso che il venditore è molto bravo dipende con che imprenditore hai a che fare semplicemente se hai a che fare con l'imprenditore intelligente vieni assolutamente valorizzato e quindi ti vengono trovati anche ruoli dati bonus incentivi premi magari ruoli dirigenziali se trovi l'imprenditore sciocchino oppure più l'azienda è grande quindi perdi il contatto con chi ha creato veramente l'impresa ma ti trovi in mezzo con dei manager e il manager tendenzialmente è uno che ha lavorato po' ha studiato tanto ha lavorato po' che non capisce il valore del fatto che te sei lì con le gomme tutto il giorno su strada a bruciare gasolio per portare fuori l'azienda e magari gli stai antipatico perché è perché la gente sente che se tu sei molto bravo loro oscuri luce tutte quelle cose è paradossale però voglio dire siamo dei tafazzi in Italia ci sappiamo dare le martellate è così un po' in tutto il mondo non è che voglio fare l'antiterraneo non è solo italiano non è assolutamente solo italiano diciamo che più il rapporto si scollega tra cioè il rapporto tra venditore e imprenditore è un rapporto dovrebbe essere di interdipendenza perché sono due imprenditori di base il venditore non è un dipendente dell'imprenditore abbiamo anche questa mal percezione cioè io sono essendo un venditore in realtà sono un'azienda commerciale unipersonale quello che noi chiamiamo l'imprenditore è il mio fornitore è uno dei tanti magari in esclusiva se sono monomandatario prendo il suo prodotto e lo porto sul mercato è come se io avessi un negozio semplicemente io sono il negozio la mia macchina è il mio negozio invece noi abbiamo questa voglia di sentirci il paron quindi tu lavori per me ma non è che il venditore lavora per te è una commerciale se tu le dessi il tuo prodotto a un distributore che ha i negozi quello non è il tuo uomo quello è un imprenditore che ha messo il negozio ecco la gente di commercio è un imprenditore e deve avere un rapporto di interdipendenza però poi qui entra in campo la psicologia ognuno e quindi dipende se hai a che fare tra persone in gamba il rapporto è stupendo se hai a che fare non è che poi i venditori sono dei santi perché trovi anche lì non è che il ruolo che hai lavorativamente ti rende più o meno intelligenti sono venditori straordinari e venditori che andrebbero giaccati di botte stessa cosa gli imprenditori e stessa cosa i dipendenti dipendenti straordinari dipendenti che si mettono in malattia tutti i lunedì mattina questo vale diciamo in tutti i settori compreso quello del giornalismo insomma ovunque vediamo spesso esempi squalificanti non solo nelle aziende pubbliche con i cartellini ma anche nelle aziende private c'è chi fa le creste insomma io non difendo nessuno che difendo solo le brave persone difendo i bravi venditori difendo i bravi imprenditori non bisogna mai generalizzare insomma ci sono quelli bravi quelli meno bravi quelli che sarebbe meglio evitare di assumere senti è uscito un film bellissimo secondo me un film americano si chiama Joy mi piacerebbe anche forse i miei editori l'hanno visto e si saranno ritrovati in questi meccanismi che questo film racconta molto bene la storia di una ragazza anzi di una bambina che sapeva creare delle cose da piccolina proprio costruiva delle cose a un certo punto da ragazza le viene in mente di fare un mocio un mocio che praticamente si autostrizza insomma è più facile pulire allora va in una televisione perché vuole vendere questo prodotto prima la prendono sotto gamba poi alla fine dicono vabbè proviamolo affidano la presentazione in una televendita a un esperto di televendite che fa fiasco perché dice ma cos'è sta roba non la sa usare disastro alla fine lei si propone al titolare dell'azienda e dice lo presento io perché lo so usarlo l'ho inventato io insomma e lì si vede questa scena dove c'è il tabellone delle telefonate in questo call center che si impenna e arriva a dei numeri strabiliani insomma vendono milioni di questo prodotto poi ci sono problemi di licenze insomma gliene fanno di tutti i cori e alla fine questa si impone e vince la sua la sua battaglia cioè oggi negli Stati Uniti ma anche in Italia la televendita può avere un valore straordinario a patto che sia fatta bene perché voglio dire anche lì come c'è il venditore bravo e quello meno bravo c'è la televendita ignobile che non ti attira minimamente c'è quella fatta bene e anche quello è un settore dove tanti giovani potrebbero inserirsi sì questo è molto importante mi fa molto piacere questa domanda perché la televendita è l'ossatura in particolare in Italia dovrebbe essere mandatario per qualunque piccola impresa fare televendita soprattutto per le aziende che incidono a livello locale cioè regionale provinciale cioè più la il tuo bacino è stretto più devi trovare ovviamente il media giusto per incidere in termini di di target cioè di pubblico che ti segue la televendita non gli spot creativi in televisione la televendita perché la televendita è marketing a risposta diretta prima parlavamo di copywriting il copywriting è l'arte di scrivere per vendere quindi io insegno per esempio ai miei studenti io per primo facciamo delle lettere di vendita che sono lunghe 20 30 pagine la televendita non è nient'altro che una 6 letter quindi una lettera di vendita recitata cioè si crea con degli stilemi si fa proprio in un determinato modo quindi al di là della passione che ci posso mettere e della conoscenza del prodotto c'è proprio un modo esatto di fare queste cose in Italia per esempio anche negli Stati Uniti tutte le piccole perché anche negli Stati Uniti hanno le piccole e tutte le piccole aziende in locale che hanno avuto successo sono diventate grandi il principio l'ossatura la spina dorsale della piccola media impresa è la televendita e le lettere di vendita cartacee perché sono la stessa cosa fatte in maniera diversa attraverso la televisione e con la carta inviate in Italia abbiamo l'ennesimo problema che è la televendita dagli imprenditori in maniera assolutamente erronea perché se ne conoscessero il vero valore non direbbero queste cose la televendita è percepita in Italia come qualcosa di svilente cioè se sei un po' sfigatino fai la televendita invece se sei bravo sei la grande azienda fai la pubblicità d'immagine fai la cosa creativa che in termini di vendita non serve a nulla non serve a nulla ok perché non ha una risposta direttora non hai il tempo in realtà di creare un brand attraverso quel tipo di strategia la televendita sarebbe straordinaria dovrebbe essere obbligatoria se vuoi aumentare il tuo business la televendita è qualcosa di assolutamente 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 fondamentale abbiamo visto la creazione di imperi in realtà in Italia senza fare nomi di aziende perché magari non va bene però pensiamo a tante aziende di materassi che sono nate da dentro tu puoi vendere materassi avendo il negozio su strada o puoi fare quindi col tuo capannoncino e fai qualche negozio oppure puoi fare la televendita questi con le televendite sono diventati miliardari e non è che il tuo settore è diverso è che loro l'hanno fatto e tu no quindi io vedo un sacco di persone molto brave anche in televisione che fanno le televendite e vengono prese in giro ah guarda io mi ricordo la gente che prende in giro per esempio Mastrota per dire o altri personaggi la solda è bravissima cioè dia che non lo conosca personalmente lui ha costruito una carriera e guadagna un botto di soldi guadagna un botto di soldi perché è bravo a fare quello che fa e non solo è bravo a fare quello che fa ma vende un casino ho citato lui perché è famoso magari è chiaro che se tu associ la televendita a Vannamarchi abbiamo qualche problema perché ovviamente è una televendita molto sbragata mi si prodotto in termine tecnico e non vende cose probabilmente corrette o qualitative ma laddove è innestata su un'azienda di qualità soprattutto ha maggior ragione per chi lavora a livello regionale dovrebbe essere a scuola all'università potessi insegnare cosa insegneresti a un imprenditore che lavora a livello regionale televendita nella rete migliore che trovi nel tuo settore poi ovviamente ci sono purtroppo anche gli imbonitori ma la gente sa distinguere ormai tra le persone diciamo affidabili quelle meno diciamo meno meno credibili senta un'altra cosa The Independent che è un giornale inglese ha da ieri rinunciato all'edizione cartacea e ormai lo si troverà solo su solo online è quello che è il destino di tutti i quotidiani però il problema oggi dei siti online è che i banner sono ancora pochissimi tu apri qualsiasi sito quotidiani nazionali o locali insomma non c'è molta pubblicità e ancora non prende piede cosa prevede su questo perché lei sulle previsioni insomma e sul fiuto che ha dimostrato di avere può essere molto molto chiaro su questo che tempi prevede secondo lei per appunto per l'avvento della della pubblicità sui nuovi mezzi sui social network allora in realtà è sicuramente qualcosa che sta prendendo piede ovviamente perché già esiste già su google su facebook ci sono investimenti miliardari in tutto il mondo io per primo sono una persona che investe tantissimo ok su questi strumenti c'è anche da dire che io non sono un feticista dell'online anzi sono semplicemente convinto e non è una mia convinzione sono i dati che molta gente si ritira dagli strumenti tradizionali perché non li sa usare semplicemente e alcuni di questi strumenti non funzionano più cioè io sono 15 anni che sento la gente dentro le orecchie ah tutto andrà online gli ebook i libri falliranno in realtà la vendita di libri aumenta stampano più libri cartacei cioè perché meno in realtà la gente è capace di starsi più quando tu pubbli il giornale in realtà in mano è ancora un valore per le persone poi abbiamo un altro problema nel senso che nel momento in cui tu fai un quotidiano e il quotidiano è completamente generalista è chiaro che diventa in gergo tecnico siamo una commodity quindi magari la gente lo compra meno quindi in futuro in realtà io non mi toglierei dall'offline cioè dalle cose fisiche semplicemente focalizzerei meglio cioè farei le pubblicazioni che funzionano di più in tutto il mondo sono pubblicazioni non generaliste ma focalizzate specializzate su un argomento dove si va molto più in profondità cioè il quotidiano con le notizie ricopiare perché oggi il problema è così una volta c'erano i giornalisti giornalista di inchiesta oggi i giornalisti vanno su internet copiano su carta quello che hanno trovato la velina e quindi quello fa schifo cioè cosa serve quella roba lì è chiaro che il giornale ha perso il senso nel momento in cui tu vai in verticale quel tipo di comunicazione che sia una rivista che sia un magazine che sia un mensile che sia un quotidiano quello se fatto bene non morirà mai e solo che devi avere un editore capace anche nell'editoria gli imprenditori sono ancorati a delle cose vecchie ma io sono assolutamente convinto che ci sia spazio per fare cose straordinarie online è la stessa cosa i siti che vanno i miei blog i miei siti sono nel mio settore i più visti in assoluto in Italia ma perché? non perché sono più magari sono anche bravino ma non è quello il punto è perché io invece che parlare di tutto pizza e fichi sono focalizzato quindi la gente che cerca informazioni su quelle cose viene lì ovviamente io non li monetizzo con la pubblicità ma se li volessi monetizzare con la pubblicità lì se ti porto i dati di ascolto di quei siti la gente me lo chiede di continuo poi io non lo faccio perché non mi interessa non voglio monetizzare così perché serve a me ok? non voglio monetizzare così però quello è il dato essere focalizzato e produrre dei contenuti specifici allora Frank Merenda 37 anni un uomo che ha iniziato dalla gavetta con grande umiltà e che ha costruito nel nordè si dice un piccolo impero i self made men nel suo campo veramente ha raggiunto grandi risultati e la fine è questa della prima parte di focus speciale se volete capirne di più ancora di marketing di business di comunicazione approfittatene seguiteci anche nella seconda parte perché sicuramente avrete dei consigli dei suggerimenti che vi saranno molto utili per l'attività che svolgete di qualsiasi attività di qualsiasi attività si tratti tra pochissimo state con noi con focus su Rete Veneto di qualsiasi attività